Maxi sequestro di piercing non sicuri, le fiamme gialle sequestrano 6.800 articoli in un negozio del Pordenonese. L'assessore regionale del Veneto Federico Caner celebra la giornata mondiale del turismo, il Veneto in testa alla classifica nazionale. Confindustria Alto Adriatico oggi in assemblea generale, si è discusso di capitale umano. Lavori alla terza corsia dell'autostrada A4 in partenza anche a Cessalto, il punto con il sindaco Emanuele Crosato. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Media24. In primo piano la cronaca cominciamo da Oderzo. Ieri mattina un cittadino ha segnalato una macchia oleosa sul fiume Monticano all'altezza del ponte del Teoresin. In breve tempo gli impiegati dell'ufficio ambiente e i tecnici dell'ARPAV sono intervenuti per gestire la fuoriuscita di gasolio, risolvendo la situazione in circa mezz'ora. Fortunatamente l'incidente non ha provocato danni alla fauna ittica. Secondo le prime ipotesi la perdita potrebbe essere stata causata da una cisterna eccessivamente carica o che ha trassudato. Il rapido intervento delle autorità e anche grazie alla segnalazione tempestiva del cittadino hanno evitato conseguenze ben più gravi. La Polizia di Stato di Pordenone ieri pomeriggio ha eseguito il provvedimento di sospensione della licenza disposto dal questore dottor Giuseppe Solimene nei confronti di un esercizio pubblico, l'Hollywood di Zoppola. Su proposta della stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto è stato segnalato alla questura che il locale era ritrovo di soggetti pluri pregiudicati, dediti allo spazio e all'uso di sostanze stupefacenti. Il provvedimento della durata di 30 giorni è frutto di un'intensa attività di verifiche effettuate a partire dal 15 settembre con controlli ravvicinati, l'ultimo dei quali il 20 settembre, in esito alla quale è emerso che il locale, oltre ad essere abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è anche luogo presso il quale i consumatori hanno la possibilità di reperire con certezza tali sostanze in ore notturne al fine di raggiungere lo sballo. La Guardia di Finanza di Pordenone ha effettuato un importante sequestro di 6.800 articoli non conformi. Vediamo il servizio. I finanziari del Comando Provinciale di Pordenone hanno rinvenuto e sequestrato 6.800 articoli privi dei necessari requisiti di sicurezza e sanzionato amministrativamente l'esercente che li commercializzava. Nell'ambito degli ordinari controlli volti a contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri, le fiamme gialle del gruppo di Pordenone hanno individuato all'interno di un esercizio commerciale centinaia di piercing e accessori per occhiali, posti in vendita senza le indicazioni rese obbligatorie dal Codice del Consumo sulla denominazione merceologica, sulla provenienza e sui materiali impiegati per la produzione, imprescindibili per garantire agli acquirenti finali le informazioni necessarie a valutarne la qualità e la compatibilità con le proprie esigenze. Il successivo più approfondito riscontro, esteso anche al magazzino dell'esercizio commerciale, ha permesso di individuare e di conseguenza porre sotto sequestro altri prodotti della stessa. E oggi in Guardia di Finanza di Treviso, passaggio di consegne. La cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante del gruppo di Treviso ha visto il saluto del Tenente Colonnello Giuseppe Spezzaferro al Tenente Colonnello Michele De Luca. Dopo l'esperienza quadriennale al gruppo di Treviso, caratterizzata da brillanti risultati in ogni ambito della missione istituzionale del corpo, il Tenente Colonnello Spezzaferro andrà a ricoprire l'incarico di comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Piacenza. Il Tenente Colonnello De Luca, 57 anni, originario di Benevento, coniugato con due figlie, giunge a Treviso dal gruppo di Porto Gruaro, dove ha ricoperto l'incarico di comandante. Nel suo indirizzo di saluto, il nuovo comandante ha ringraziato la superiore gerarchia per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico, assicurando il massimo impegno ad esercitare un'azione di comando equilibrata ed efficace. E oggi, l'avete sentito nei titoli, il 27 settembre è la giornata mondiale del turismo. Vediamo il servizio. Il 27 settembre ricorre la giornata mondiale del turismo. Oggi celebriamo la prima industria del Veneto, il turismo, che ha anche il merito di porci in testa la classifica nazionale per movimento turistico, ha dichiarato oggi Federico Canera, assessore della Regione Veneto al turismo. Nei primi sette mesi del 2024, il turismo veneto ha già registrato un più 2,2% di arrivi e un più 1,1% nei pernottamenti registrati. L'edizione 2024 della giornata mondiale del turismo è dedicata al tema turismo e pace, con l'obiettivo di indirizzare l'attenzione globale verso un concreto impegno per la pace. Il turismo può svolgere un ruolo fondamentale come catalizzatore per promuovere la comprensione tra nazioni e culture e per sostenere i processi di riconciliazione. Canera ha snocciolato i dati che vedono la crescita turistica più importante sulle colline del Prosecco, con un più 9,1%, e ha sottolineato anche il dato dell'area dei Colli Euganei, con un più 0,8%. L'area è stata da poco riconosciuta dall'UNESCO come riserva mondiale della biosfera. Venendo al periodo estivo, che è indubbiamente il banco di prova più significativo per il settore turistico, i mesi di giugno e luglio hanno registrato una generale contrazione a causa del maltempo, ma le prime stime, sottolinea Caner, parziali e provvisorie di agosto, indicano un sostanziale allineamento con l'estate del 2019. Nella graduatoria degli stati esteri di provenienza, i tedeschi occupano sempre il primo posto e il loro numero si dimostra sostanzialmente allineato all'anno scorso. In seconda posizione, gli americani, grazie al recente incremento, la Cina invece sta recuperando velocemente e giunge in decima posizione, nonostante i turisti cinesi siano ancora solo la metà rispetto al periodo pre-pandemico. Oggi si è riunita in Assemblea Generale la Confindustria Alto Adriatico. I dettagli nel servizio. Governatore Federica, oggi a grado un messaggio importante della regione di grande partnership col mondo industriale. Sì, e soprattutto devo dire che il progetto Gana lanciato da Confindustria Alto Adriatico è un progetto virtuoso che prevede la formazione in loco dei ragazzi e delle ragazze e la possibilità di venire poi a lavorare nel nostro paese, conoscendo la lingua e conoscendo la professione, avendo delle granzie. Questa è un'immigrazione scelta, controllata, guidata, con diritti, non invece quell'immigrazione irregolare che purtroppo subiamo e che crea tensioni sociali e problemi sul nostro territorio. È proprio l'opposto rispetto invece a chi vorrebbe tenere a parte le frontiere indistintamente. Governatore, indicatori economici anche per la regione estremamente positivi? Sì, devo dire che i numeri sono molto buoni, non soltanto la crescita ma i dati che abbiamo dato qualche giorno fa sull'occupazione testimoniano che siamo una regione con le spalle molto larghe e forti, abbiamo più del 70% di occupazione, il 3,4% di disoccupazione, più basso ricordo del dato di maggio della Baviera che è uno dei territori storicamente in Europa con la più bassa disoccupazione, però oggi dobbiamo guardare alle sfide del futuro e quella del capitale umano ne è una, perché è proprio la necessità di capitale umano che avremmo, l'utilizzo di nuove tecnologie che dovrebbero essere abbinato a questo saranno le sfide che il nostro mondo produttivo dovrà confrontarsi, con cui anche la pubblica amministrazione dovrà confrontarsi. Questo rapporto pubblico-privato, in particolare il rapporto tra la regione e Confindustria e l'Adriatico, dove sta portando e quali sono i prossimi progetti? Pensiamo soltanto agli ITS con cui stiamo avendo enormi risultati, con una capacità formativa di altissimo profilo e devo dire che il nostro modello, quello del Friuli Venezia Giulia, è quello che è guardato a livello nazionale come punto di riferimento, proprio sugli ITS, perché su questo siamo in grado di offrire una formazione spendibile nel mondo produttivo e utile alle imprese stesse. Per cui avete già investito dei fondi del PNR proprio per la formazione? Molti, in tutti i settori abbiamo la formazione professionale ovviamente, oltre ovviamente che tutti i fondi PNRR sulla formazione, quella di base, sul quale ci sono molte risorse a livello nazionale, su quale devo dire anche le amministrazioni stanno spendendo rispettando le tempistiche. Ci spostiamo a Portogruaro. Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì alle ore 18 in municipio. Diversi temi all'ordine del giorno, tra cui la tanto attesa dalle minoranze e presentazione delle linee programmatiche della nuova amministrazione. Nei giorni scorsi, inoltre, i consiglieri di minoranza Sara Moretto, Cathy Collin e Luigi Geronazzo hanno presentato un'interrogazione a risposta verbale relativa alla pista ciclabile lungo Viale Matteotti, i cui lavori sono iniziati da qualche settimana. I consiglieri chiedono al sindaco se intenda incontrare i cittadini di Viale Matteotti, che a luglio avevano presentato una raccolta firme per chiedere un incontro all'amministrazione. E, inoltre, chiedono se il progetto includa un'attenta valutazione dell'alberatura lungo il Viale e degli effetti dei lavori sulle medesime piante. L'interrogazione si conclude con la richiesta di conoscere le intenzioni generali dell'amministrazione relativamente al Ring. Siamo collegati col sindaco di Cessalto Emanuele Crosato. Buonasera sindaco. Questa sera facciamo con lei un po' il punto dei lavori che riguardano gli abbattimenti dei cavalcavia per la tanto agognata terza corsia dell'autostrada. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Finalmente si inizia, è arrivata la comunicazione di inizio dei lavori, di uno dei sovrappassi. Ricordo sempre che ne abbiamo ben cinque a Cessalto da rifare completamente in vista dell'ampiamento della terza corsia. È un'opera preliminare fondamentale. Lunedì avrò un incontro. Il sovrappasso autostradale è quello di Via Manin, cioè quello vicino a quello all'interno di Santa Maria di Campagna. Presenta delle difficoltà e particolarità anche nella sua costruzione. Prevede ben tre cantieri importanti dove ci sarà un grande traffico di mezzi pesanti e pertanto bisogna pianificare bene questo passaggio. Ho chiesto lunedì prossimo Ventura un incontro tra la provincia e le ditte impegnate per cercare di trovare le soluzioni migliori per i residenti, ma anche per evitare quel traffico pesante che molto probabilmente ci sarà e dovremmo attenuarlo in qualche momento, soprattutto in Via Castorta che vi ricordo è quella strada provinciale che viene ogni qualvolta c'è un incidente o in autostrada viene completamente riempita di traffico veicolare pesante, di camion, creando enormi disagi per i residenti. Pertanto è un inizio di un'operazione importante che ci sarà impegnato nei prossimi anni. Si prevede che solo questo sovrappasso avrà un impegno di oltre un anno, quindi comunque stiamo parlando di lavori importanti. Contemporaneamente c'è il tema quello di Ceggia, dei sottopassi della Ferrovia dello Stato che sta incominciando ad avere le prime autorizzazioni. Come sindaci e ringrazio sentitamente sia il sindaco di Ceggia che mi ha reso partecipe e sia i sindaci del Veneto orientale attraverso la loro commissione dei sindaci che mi hanno invitato ai loro incontri, dovremmo prevedere e sponsorizzare con forza sia a livello regionale nazionale l'importanza di riprendere quel percorso che era la bretella che andava a unire via Dante, quindi il casello dell'autostrada di Cessalto, verso la Statale 14. È una cosa che ormai abbiamo, una necessità enorme, ogni volta che c'è un incidente in autostrada, il poter collegare come via di sfogo la Statale 14, anche perché il grosso di tutto quello che è i veicoli, soprattutto nel periodo estivo, escono a Cessalto. È importante soprattutto per il Comune di Ceggia per ridurre all'interno del Comune di Ceggia i veicoli pesanti, quindi siamo vicini pur non avendo noi direttamente questo problema, ma siamo vicini al sindaco di Ceggia, ai cittadini di Ceggia nel voler fortemente una soluzione a riguardo. In chiusura le chiedo brevemente di un'opera forse meno importante della terza corsia, ma molto sentita a Cessalto. Partono finalmente i lavori all'ingresso del cimitero? Sì, nell'ingresso del capoluogo di Cessalto, finalmente dopo un itera anche amministrativo importante, perché comunque è un bene tutelato dalla sovrintendenza per il suo valore storico, architettonico e anche paesaggistico in quel punto, siamo riusciti a terminare l'iter autorizzativo e abbiamo dato via all'appalto e pertanto speriamo a breve di poter incominciare anche con quei lavori, perché comunque sono le piccole cose che permettono poi di dare risposte alle esigenze dei cittadini, quella di andare a trovare i propri cari, l'importanza di avere un luogo decoroso anche nel cimitero. Certo. Grazie al sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Grazie a voi e buona serata a tutti i telespettatori. Grazie ancora. Questa mattina tavola rotonda sulla sicurezza sul lavoro organizzata da Confapi Venezia. Vediamo il servizio. Il consiglio che mi sento di dare alle aziende è quello di prima tenersi aggiornata sul cambiamento della normativa, perché tutti gli anni ci sono dei piccoli cambiamenti nelle normative che vengono apportati non perché al legislatore piace cambiare le normative, ma perché si è visto che questi cambiamenti possono determinare dei miglioramenti in termini di salute e sicurezza. E poi di investire risorse nella formazione dei lavoratori, nella formazione dei preposti e nella formazione anche di loro stessi come datore di lavoro. E soprattutto nel definire nelle loro strutture aziendali un preciso organismo di controllo interno che consenta di avere una catena di comunicazione tra chi lavora sul campo e il datore di lavoro che magari sta in ufficio, magari sta in viaggio per contattare i clienti, ma deve avere qualcuno che lo informa sui eventuali scostamenti dei lavoratori da qualche norma di sicurezza e che sia in grado, in qualche maniera, con le maniere che consentite dai contratti, di prendere dei provvedimenti. Il spettorato del lavoro adesso ha le competenze in tutti gli ambiti produttivi in materia di salute e sicurezza e si sta cercando di strutturare con le proprie risorse in formazione interna per fare la vigilanza in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambiti. Per cui la pregressa esperienza in materia di edilizia, i consigli che possiamo dare è di continuare a prestare attenzione a tutti gli adempimenti normativi, anche in relazione a questa nuova patente a crediti soprattutto, che tende a stimolare le aziende in un miglioramento dell'organizzazione aziendale, perché quello che manca attualmente è proprio una organizzazione, una progettazione della sicurezza, in modo da fare un salto di qualità per migliorare sicuramente le condizioni di tutela dei lavoratori nell'ambito edilizio, perché è un settore altamente a incidenza infortunistica. Noi rileviamo che l'organizzazione del cantiere è sicuramente migliorata negli ultimi anni, quindi c'è una maggiore attenzione delle misure di prevenzione attive in edilizia. Quello che ritengo che bisogna che le imprese capiscano è che devono fare un salto di qualità nell'organizzazione, a partire anche dalla valorizzazione dei soggetti, dei preposti, dei capi cantiere, che servono sia per il controllo e la direzione della produzione del cantiere, quindi dell'avanzamento dell'opera, ma anche del controllo che quest'opera sia realizzata seguendo le misure di sicurezza e che quindi anche i lavoratori stessi siano attenti alla sicurezza personale, ma anche dei propri colleghi, perché poi alla fine è una squadra che giornalmente lavora assieme per produrre delle cose, ma ogni giornalmente noi auspichiamo che tornino a casa tutti assieme senza nessun infortunio. Ci spostiamo a Sesto a Reghena perché l'amministrazione comunale insieme ad Asfo informano la cittadinanza che dal primo di ottobre verrà attivato l'ASAP, l'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria nell'edificio di via Giulia Concordia 27 messo a disposizione dal Comune e rapidamente adattato alla nuova destinazione grazie a una sinergia attuata tra i due enti. A seguito del pensionamento della dottoressa Marisa Morassut e dell'attuale carenza di professionisti disponibili alla sua sostituzione, l'azienda, che ha condiviso le richieste del Comune e dei pazienti di provvedere nel più breve tempo possibile al fine di garantire la continuità di servizio, attiva l'ambulatorio che sarà gestito da tre medici. I professionisti garantiranno in questo modo tutte le funzioni della medicina generale, comprese le visite al domicilio, fino all'individuazione di un nuovo medico titolare. Gli orari di apertura sono molto ampi e coprono tutta la settimana. L'ambulatorio, al quale si accederà solo su prenotazione, sarà attivo dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 12 e lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. Siamo collegati con il sindaco di Annone Veneto, Daniele Carotti. La provincia ha firmato l'ordinanza che istituisce il senso unico alternato sul cavalcavia lungo la strada provinciale 60. Sindaco, buonasera, ci spiega un po' nel merito l'ordinanza. Sì, buonasera. Allora, l'ordinanza è proprio relativa ai lavori che saranno propedeutici alla costruzione del nuovo cavalcavia che avverrà a fianco dell'attuale, proprio inerenti ai lavori di ampliamento della terza corsia della quattro. L'ordinanza è frutto anche di un dialogo che c'è stato con la città metropolitana, con la ditta paltrattrice, perché inizialmente era stata ipotizzata la chiusura del cavalcavia per un mese e dopodiché come comune ci siamo morsi anche confrontandoci con i consiglieri comunali di entrambi i gruppi appunto per trovare una soluzione alternativa che sarebbe stata una soluzione deleteria per chi abita soprattutto in quella zona di Hong Kong, tra il cavalcavia e il passaggio a livello sulla Trieste-Venezia. Abbiamo contattato la provincia e grazie alla disponibilità di questa abbiamo trovato una soluzione alternativa che è appunto la chiusura al senso unico alternato dal 30 del 9 al 16 dell'11. La popolazione è stata avvisata sia per le vie informali sia pubblicando l'ordinanza stessa nel sito del comune. Quindi insomma in questo modo si riducono un pochino i disagi alla popolazione, è un buon risultato direi? Sì, è un buon risultato appunto perché quella zona come dicevo è abbastanza disagiata da un punto di vista della viabilità e di conseguenza in questa maniera si riducono al minimo. I lavori devono essere fatti perché non si può essere contrarie a un'opera di questo genere. Però trovare un dialogo, una soluzione, questo ha reso possibile che i disagi siano molto contenuti. Grazie al sindaco di Annone Veneto Daniele Carotti A Pordenone l'amministrazione comunale lancia una campagna rivolta a tutti i cittadini per l'utilizzo anche nei weekend dei parcheggi su multipiano. Vediamo il servizio. Il comune di Pordenone avvia una campagna di comunicazione per incentivare l'utilizzo dei parcheggi in multipiano nel fine settimana. Secondo i dati in possesso di GSM Gestione Servizi Mobilità relativi al 2022, l'intera provincia di Pordenone conta circa 312.000 abitanti e nei giorni lavorativi escono dalla città di Pordenone circa 20.000 veicoli, mentre ne entrano circa 23.000. L'analisi, sottolinea l'amministratore unico di GSM, Antonio Consorti, ha evidenziato che durante la settimana, soprattutto dal martedì al venerdì, i parcheggi in multipiano e in struttura risultano quasi tutti occupati all'80%, salvo il Candiani e l'Oberdan, utilizzati per il 60%. Nel weekend, invece, si registra un drastico calo nell'utilizzo di tutti questi parcheggi, che dalle 15 del sabato alle 24 della domenica sono fruibili gratuitamente. Da qui la decisione di una campagna informativa affidata alla società D.E.C.O., con l'obiettivo di far sapere ai cittadini di Pordenone e dell'intera provincia che i parcheggi in struttura multipiano esistono e sono convenienti. Infatti, il costo orario dei parcheggi in struttura multipiano è di 40 centesimi, a fronte di 1,20 euro degli stalli a pagamento su strada. La campagna presenta anche un obiettivo sociale, dal momento che liberare i parcheggi su strada favorisce le persone anziane, quelle fragili o le mamme con bimbi piccoli, che si devono recare negli uffici per effettuare commissioni o nei negozi del centro per fare acquisti. In tal modo, il centro città risulterebbe meno affollato di auto, riducendo l'inquinamento causato anche dalla continua ricerca di un parcheggio e incrementando la sicurezza dei pedoni. Infine, i parcheggi in struttura sono coperti e grazie alle telecamere installate garantiscono maggiore sicurezza per le auto che custodiscono. La campagna sarà attiva fino a fine dicembre. Domani, giornata sul rischio alluvionale, siamo a San Michele al tagliamento. L'amministrazione comunale presenterà l'osservatorio dei cittadini alla cittadinanza. Domenica, in un'intera giornata. Sarà una domenica quindi ricca per tutti i cittadini. Si parte alle 9.30 in municipio con l'inaugurazione della mostra Il tagliamento visto dai bambini. In Piazza Libertà, invece, ci saranno gli stand divulgativi dell'osservatorio dei cittadini sulle piene con le associazioni del territorio. Sarà possibile conoscere da vicino le tecnologie dedicate alla cittadinanza, nello specifico il portale web e l'applicazione mobile, per promuovere la tutela e la gestione dei fenomeni alluvionali. Sarà inoltre possibile sperimentare cosa significhi trovarsi in uno scenario alluvionale con la simulazione di realtà virtuale immersiva a cura del centro di ricerca dell'Università di Padova. Dalle 10 alle 13 spazio alle famiglie con la caccia al tesoro del fiume. Inoltre, dalle 10 alle 11.30 in sala consigliare ci sarà un quiz a premi tra le associazioni, una vera e propria sfida sulla salvaguardia del territorio. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, l'appuntamento sarà con arte in camminata, momento di condivisione in passeggiata sulle storie vissute sullo sfondo del tagliamento. La partenza sarà da Piazza Galasso. La giornata terminerà alle 18.30 nella sala consigliare del municipio con un incontro arricchito da testimonianze sull'alluvione del 1966. Il Friuli Venezia Giulia celebra con tre giornate dedicate la giornata nazionale Aido. Vediamo il servizio. Assessore Riccardi, la giornata del Sì alla donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule si svolge a Trieste e non è una scelta casuale? Sicuramente un riconoscimento importante nel lavoro che la sezione locale dell'Aido fa insieme al nostro sistema professionale consentendo a questa regione di essere la prima regione d'Italia in termini di trappianti. Questo è un risultato che viene confermato nel 2024 e quindi io sono particolarmente grato all'Aido nazionale di aver fatto questa scelta ed è una scelta, come la Presidente ha detto, di solito si va a cercare di aiutare quelli che sono più in difficoltà ma bisogna anche partire da quelli che invece possono insegnare come superare queste difficoltà e questa è la ragione per la quale noi abbiamo scelto di essere qui oggi. Io sono grato di questo, la cultura del dono fa parte della cultura dell'approccio anche al servizio del sanitario, alla sanità pubblica, è cultura, è alleanza tra persone ed è il gesto del dono che salva le vite. Quindi noi oggi siamo contenti di aver ospitato l'inizio di queste tre giorni che vedrà Trieste protagonista in queste giornate con un calendario di iniziative sicuramente molto importanti. E questa era l'ultima notizia di oggi. Prima di lasciarvi alla programmazione di Media24 vi ricordo l'appuntamento domenica con la nostra diretta della Giornata Mondiale del Cuore a Motta di Livenza. La diretta partirà dalle ore 10. Non mi resta che augurarvi una buona serata e un buon weekend. Grazie.